credo che siamo riusciti a fare qualcosa di veramente straordinario anche perché in meno di 24 ore siamo riusciti a raccogliere quasi 80 mila euro e questa è la testimonianza che c'è stata una grande gara di solitarietà una grande sensibilità da parte di tutti con queste risorse e finalmente si potrà riuscire a far operare angelica in in germania e quindi sostenere quelle che sono le prime spese di cui ci sarà necessità il ringraziamento veramente a tutti a tutte le persone della riviera ionica della sicilia a tutti quelli che hanno voluto dare questo grande contributo questo grande senso di responsabilità che tutti insieme abbiamo mostrato e con un piccolo gesto da parte di tutti si è riuscita ad ottenere un grande grande risultato adesso non ci resta che pregare e sperare che tutto vada per il verso giusto e che angelica possa ritornare ad essere in mezzo a noi con la forza la determinazione e la tenacia che ha sempre avuto